Come hai disegno, dipingo, scateno, faccio capoeira e suono le congas? Mi hanno sempre fatto fare un ruolo maschile, il regista ha sempre deciso di farmi fare un ruolo maschile, quindi non so dove potrei identificarmi in questo spettacolo, non lo so. Mia mamma è una cuoca, una chef, e mio papà è il proprietario di un resort in provincia di Trapani. Sì, assolutamente sì, io e mia mamma ci capiamo, parliamo un sacco, abbiamo un rapporto quasi di amicizia, anche se lei ogni volta mi dice io non sono una tua amica, sono sempre tua madre, è una città bellissima secondo me. Mancano dei luoghi di incontro per ragazzi, organizzazione soprattutto. Bella perché intanto mette allegria secondo me, gioiosa e solare, è bella. Io mi sento a casa anche quando sono stata in Brasile, ho visto il centro storico di Salvador, mi sentivo a casa perché riconoscevo Palermo in alcune cose e in alcune persone.